60 anni sono un grande traguardo e come tali debbono essere festeggiati. Il 28 maggio il pastificio Andalini ha scelto di spegnere le sue candeline con una festa in presenza degli amici più cari, dei clienti e dei fornitori di una vita. Sull'onda della gioia e dell'orgoglio che questa ricorrenza ha portato con sé, il pastificio Andalini ha scelto di condividere la propria soddisfazione con tutto il territorio. In occasione del settembre centese Andalini renderà omaggio ai suoi 60 anni e alla cittadinanza che da altri tanti anni lo supporta con un concerto in Piazza della Rocca, organizzato in collaborazione con il Comune di Cento, la Proloco e la Fondazione Teatro Borgatti. Andalini presenta in questo suggestivo spazio un pool di eccellenze della musica dei territori emiliani e limitrofi. I 52 elementi dell'orchestra Città di Ferrara e 10 coristi, coordinati dal maestro Diego Basso, che vanta numerose collaborazioni con i principali interpreti della musica pop italiana e internazionale, tra i quali la direzione del trio Il Volo. Daranno vita ad un coinvolgente spettacolo, che vedrà la partecipazione come special guest del tenore Francesco Grollo, interprete e protagonista delle maggiori opere teatrali degli ultimi anni, sia in Italia che all'estero. Nonché dei ragazzi della scuola Art Voice Academy, un progetto nato e voluto dalla volontà del maestro Basso nel 2003, che cura il perfezionamento e la preparazione dei cantanti, attori e performers già affermati alle prime armi. Presenterà la serata la bellissima Luisa Corna. Durante la serata, inoltre, Andalini darà la possibilità di vincere ghiotte sorprese, oltre ad una visita presso il pastificio stesso, grazie al contest creato ad hoc, tributo alle stelle. La foto che avrà ottenuto il like scattata durante la serata e condivisa sui social di Andalini sarà decretata vincitrice. L'evento sarà ingresso libero e le offerte saranno devolute all'associazione Anfas di Cento per il progetto Gruppo Appartamento dopo di noi. La manifestazione che i gruppi imprenditoriali ferraresi hanno deciso di sponsorizzare ogni anno nella città di Fertara è da qui è nata la simpatia, ma soprattutto è nata la simpatia e il volere un concerto, un concerto a Cento che abbinasse più o meno le stesse caratteristiche di altre situazioni, ovvero grandi artisti, qualità musicale alta, ma soprattutto un mix di situazione che potesse regalare a qualsiasi tipo di pubblico la musica vera. Io posso ringraziare i nostri vicini Andalini e la famiglia Andalini per aver fatto una scelta importante che è quella di regalare alla città una serata che sarà sicuramente significabile. Ci siamo in effetti visti 20 giorni fa a Savro, c'era questa volontà forte, questo desiderio forte, qui c'era questo desiderio forte che noi come amministrazione siamo stati ben contenti di fare nostro anche, credo che sia molto bello il fatto che un'azienda che ha eccellenza per il nostro territorio voglia condividere questi 60 anni di storia e di vita anche proprio con la città andando in Piazza della Rocca, diciamo regalando questa serata. È molto bello, aggiungo anche, mi piace molto il progetto di portare anche i cittadini naturalmente a visitare anche l'azienda, perché credo che questo sia un progetto che anche come sindaco a me piacerebbe molto, nel senso che in prossima richiederò anche le disponibilità delle aziende, delle eccellenze, in occasioni in particolare di eventi, di manifestazioni, di promozione del territorio, magari anche poter essere ospitato anche nel presso la tenda, per organizzare anche delle... Considera che anche le scuole già comunque le facciamo abitualmente, le superiori vengono spesso a fare così. Io sono un po' fissato, girando, soltanto non sono ben passati. E' un nostro, guarda, va bene, comunque andiamo avanti benissimo, sono anni che siamo insieme io e Sauro ci siamo conosciuti proprio per te, e da lì comunque è nata l'amicizia, l'amicizia che... perché? Perché questa persona veramente, come ho detto prima Stefano, ha un cuore grande, grande, veramente grande, lui se si impegna riesce veramente, si impegna, riesce a dare tutto tutto, tutto quanto di se stesso. E non si risparmio, eh, non si risparmio infatti. Quindi, Sauro, grazie mille perché senza di te non saremmo riusciti a fare assolutamente niente. Invece abbiamo già fatto parecchie manifestazioni proprio con il maestro Basso che ormai si ritiene veramente un amico dei nostri ragazzi che viene pranzo da noi chiedendoci di tagliatelle ragù, quindi... Andalini. Andalini, sì, sì. Andalini. Quindi, no, della famiglia Andalini non possiamo solo dire veramente grazie, grazie alla famiglia Andalini perché, come tante altre associazioni, ma io parlo della mia, cioè, ha invitato fin dall'inizio, dalle prime manifestazioni che si facevano per costruire Cocinella, ma da quando è nata Cocinella noi abbiamo la pasta di Andalini sempre. Quindi questo è veramente data dalla famiglia Andalini, e quindi noi questo è un ringraziamento che veramente ne dobbiamo fare al Presidente e a Simone e Stefano che stanno continuando loro nel lavoro. Poi... Grazie.